Un orto a scopo didattico. Questa mattina l'inaugurazione all'Istituto Falcone Scauda di Torre del Greco, nell'ambito del progetto EduGreen, Laboratori di Sostenibilità per il primo ciclo. Al taglio del nastro, insieme alla dirigente scolastica Maria Iosea Abilitato, il sindaco Giovanni Palomba, il vice nonché assessore alla pubblica istruzione Enrico Pensati e l'architetto Vincenzo Cuccaro, che ha curato il progetto. La nostra è una scuola sempre pronta alle nuove sfide. L'obiettivo è rendere gli spazi esterni agli edifici sostenibili ed innovativi. Grande la soddisfazione della preside abilitato. Ringrazio la Comunità europea e il Ministero che ci ha permesso, con dei finanziamenti ad hoc, di attuare il progetto EduGreen, Laboratori di Sostenibilità per il primo ciclo. E noi abbiamo colto la sfida, cioè di rendere gli spazi esterni ai nostri edifici sostenibili, innovativi e a sfondo didattico naturalmente. All'olto didattico è collegata un'app con cui i ragazzi potranno lavorare, potranno fare ricerche, potranno approfondire e diventa un utilissimo materiale di conoscenza, di apprendimento e di sviluppo. Quali saranno le produzioni di questo piccolo orto? In questo momento abbiamo piantato degli ortaggi. Ortaggi che all'interno di un laboratorio un gruppo di ragazzi curerà, un altro gruppo di ragazzi curerà l'aggiornamento dell'app, sarà una app contestualizzata al nostro percorso e poi varieremo o aumenteremo o allestiremo altri spazi, sempre all'interno della stessa logica. Questo progetto coinvolgerà tutti gli alunni di tutti i plessi? L'ente comunale ci sta affonnendo la possibilità di portare i nostri alunni gratuitamente dai plessi alla struttura centrale e far vivere pienamente tutti i laboratori. La sua scuola è sempre pronta alle nuove sfide? È come la preside, mi piacciono le sfide e la mia comunità agisce in questa direzione. Mi piace volare così per il miglioramento, per dare il meglio ai nostri giovani. Tra i progetti in cantiere illustrati dal vice sindaco anche l'inaugurazione del campetto polivalente è proprio questa mattina arrivata la firma del contratto per l'avvio dei lavori a gennaio al plesso Orsi. Serve affinché i ragazzi di questa scuola si avvicinino a tutto quello che è la realtà della terra, di cosa si coltiva, in che modo si coltiva. Non è solo l'orto come fatto della terra, come si coltivano alcuni prodotti, ma è anche una qualcosa di cultura e quindi rappresenta quella che è la scuola. Vice sindaco Enrico Pensati, da ex alunno della scuola, oggi ad assessore alla pubblica istruzione, stamattina qui per l'inaugurazione di questo orto didattico pensato per gli alunni. Quando ritorno in questa scuola provo sempre una forte emozione, chiaramente mi riporta indietro negli anni. Oggi inauguriamo l'orto didattico e tutto quello che rappresenta l'educazione ambientale per i ragazzi. È soltanto la prima inaugurazione. Da qui a breve inaugureremo anche il campetto polivalente che abbiamo finanziato come comune di Torre del Greco. A gennaio parteranno anche i lavori della scuola Orsi. Quindi diciamo che questo io lo voglio sempre ricordare. È uno dei plessi più penalizzati perché è quello che non è di proprietà comunale. C'è un fitto che il comune riconosce alla curia. Quindi abbiamo chiaramente le difficoltà maggiori ad intervenire. Ciò nonostante si sta avviando un importante progetto di recupero. Quali sono i tempi previsti? Ma diciamo che se tutto dovesse andare secondo i tempi, noi ci auguriamo che per l'avvio del prossimo anno scolastico di restituire la scuola Orsi alla platea della Falcone Scauda. Architetto Vincenzo Cuccaro, lei ha curato l'allestimento e la realizzazione di questo orto didattico? Siamo partiti dalle nature morte e quindi abbiamo fatto tre filoni. Chiaramente ci troviamo nella zona degli scavi di Pompei dove loro usavano gli affreschi tutta la presenza degli orti. Dopo siamo andati all'altro grande pittore della natura morta che è Caravaggio. E poi abbiamo fatto la terza scelta e l'Arcimboldo dove si facevano i volti famosi con le frutte, le verdure e che abbiamo ritenuto molto forse più calzante con un fatto ludico dei ragazzi. Dunque è un percorso di educazione ambientale e anche culturale. All'interno di quest'orto, di questo seme, si sviluppa il nostro mondo culturale italiano che devo dire forse è ancora unico al mondo, è difficile copiarcelo. Questo è fondamentale, dare questo messaggio ai ragazzi che non diventa solamente quello che è giusto alla terra. Ogni lavoro ha la sua dignità, però se viene fatto con visioni diverse rende molto di più. Presentata anche l'app dedicata a cura della dottoressa Anna Antignano e il vernissage di natura e morte realizzate dal gruppo dei giovani artisti della scuola a cura delle professoresse Italia Ruotolo e Maria Giuseppina Serpe. Non è mancato il momento musicale a tema con il coro degli alunni sulle note della canzone di Laura Pausini, sorella terra. Perché le tue foreste sono il mio respiro, sai, e non è più terrestre l'emozione che mi dai. E' stanzi. E' stanzi.